bentornati raga e benvenuto perché nuovo nel canale oggi completo no mod ragazzi utilizzando l'outfit che abbiamo preso nel video precedente di epsilon quindi andremo a metterci i caschetti un paio di pantaloni i guanti e una scarpetta ragazzi quindi ragazzi ovviamente vi dovete indossare l'outfit che avete sbloccato in precedenza vi lascio il link in descrizione per chi vuole andare a sbloccare l'outfit dopodiché andiamo e ci mettiamo i pantaloni di pelle ragazzi io ho usato questi qua grigi dopodiché raga semplicemente usciamo dai pantaloni e andiamo dalle scarpette a a me piacciono queste blu chiaro ragazzi le scarpette da skateboard dopodiché potremo andare a mettere anche i guanti io ho messo quelli da chirurgo bianchi ragazzi che ci stanno veramente bene quindi a questo punto se volete potete andare a mettere anche il caschetto ragazzi visto che questo outfit non è mod non possiamo metterci neanche il cinturone perché non ci fa mettere il giubbotto almeno ci andiamo a mettere un caschetto ragazzi il glitch del cannocchiale lo conoscete tutti quindi non ve lo faccio vedere ma vi voglio far vedere ragazzi che su questo outfit se ci andiamo a mettere il paracadute quello dell'argentina è veramente una bomba quindi raga lasciate un like se vi è piaciuto il video attivate la campanella e vi voglio dire che siamo nel giorno 8 ragazzi il 13 c'è l'aggiornamento io ne approfitterei per prendere gli account moddati gli ultimi che sono rimasti a prezzi bassi perché dal momento che faceranno il glitch per fare gli account questi account saliranno di prezzo quindi attivate la campanellina contattatemi lasciate un like lasciate un commento supportate xavix e sbada bam alla prossima grazie 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 grazie